Noi ci dici, resta calmo Ma che ha già sta calmo? Che devo stare calmo ragazzi Ce li siamo fatti noi con il Parma Abbiamo buttato due punti nel cesso Ne abbiamo buttati Nel cesso Perché ce li siamo fatti noi Onore al Parma che ha fatto comunque la sua partita Ma il gol ce li siamo fatti noi Il primo, su una disattenzione di Canzello Non ha fatto la diagonale E che Dino non è andato a ripiegare E uno Due Nel secondo siamo stati troppo a molli Cervigna ha fatto un grande gol E nel terzo Mi dispiace mio caro Mandzukic Sei il mio idolo Ma hai fatto veramente una cazzata stavolta Hai fatto veramente una cazzata Dico, ma com'è possibile perdere due punti così? Com'è possibile? Non lo so Non lo so ragazzi E adesso scrivetelo Scrivetelo su Facebook Allegri vattene Scrivetelo adesso Se avete il coraggio Che cazzo ci azzecca Allegri? Non ci azzecca niente Che i giocatori vanno in campo? Come ho sempre detto Un 50 e un 50 Non ci azzecca niente Era già nell'aria ragazzi Era già nell'aria Perché quando abbiamo subito il 3 a 2 Era nell'aria ragazzi Era nell'aria che subivamo il 3 a 3 Perché poi non l'abbiamo chiuso Abbiamo sempre questo maledettissimo vizio Di non chiuderla sta partita E poi giri e giri e giri Perché poi le partite noi Molte partite quest'anno Le abbiamo vinte così Le abbiamo vinte E ce lo meritiamo ragazzi Ce lo meritiamo Non è nemmeno il fatto che I punti di vattaccia sono Sono ridotti a 9 Non è questo ragazzi Che adesso Siamo in prossimità della Champions League E certi errori Si pagano a caro prezzo Si pagano a caro prezzo ragazzi E con l'Atletico Madrid Se facciamo questo tipo di errori Usciamo Già agli ottavi di finale usciamo Poi si è fatto male pure Berradeschi Stasera Si è fatto Ma spero che non è niente di grave Lo spero che non è niente di grave Chielline e Bonucci Tornate presto Casa S ragazzi Non è in forma Non è in forma Cioè ma chi doveva mettere Allegri stasera Chi doveva mettere Per forza doveva mettere Casares Ragazzi Non siamo affidabili Con Rucani e Casares E questo l'abbiamo capito Le squadre giustamente Giacono con il 200% Contro di noi Ed è normale Non dobbiamo mollare Ragazzi Non dobbiamo mollare La presa Che questo campionato Ancora non è finito Anche se abbiamo 9 punti di vantaggio Hai visto che partito Oggi ha fatto in Napoli Anche noi abbiamo fatto La nostra partita Abbiamo fatto sicuramente Una partita Abbiamo reagito bene Alla sconfitta A Bergamo Con Però ragazzi Abbiamo tenuto in partita Il Parma Nel primo tempo Non ha fatto un cazzo Abbiamo fatto solo 1-0 Quindi ragazzi Di cosa vogliamo parlare Poi L'abbiamo rimesso noi L'abbiamo rimesso noi In partita In carreggiato Il Parma L'abbiamo rimesso noi E perciò Stasera sono incazzato Perché con l'Atalanta Ragazzi Ho fatto un video Molto molto calmo Ma è normale Che stasera Sto incazzato Ragazzi Ma com'è possibile E scrivete di nuovo Allegri Vatt Ragazzi Lo dico di nuovo Qua si spende la luce Ok Scrivetelo di nuovo Abbiate il coraggio Ora cazzo Cosa cazzo volete Da quello Che lo attaccate sempre È colpa dei giocatori Stasera Di tutti Che hanno mollato La presa Io lo so ragazzi Io nemmeno voglio Di parlare della partita Perché raga Partite legge Si devono vincere Non è possibile Ragazzi Perché da una stagione Magari Che stiamo facendo Fondamentalmente Molto molto positiva Soprattutto in campionato Dopo Se vinciamo solo il campionato E usciamo agli ottavi Ragazzi È veramente Dopo Veramente ragazzi È un fallimento E poi hanno ragione A criticarci Perché è un conto Che magari arrivi in semifinale In finale Perdi per l'episodio E lì non voglio parlare Nemmeno di fallimento Perché ragazzi La Champions È difficile da vincere Veramente è difficile Però se perde agli ottavi Per colpa di questi errori Ragazzi Siamo alla frutta E dobbiamo andare Prima in Spagna E sappiamo benissimo Che là Un catino Infernale Ci assaliranno Per 90 minuti Tifosi Avversari E anche l'Atletico Che la metterà Sicuramente Sull'agonismo Per 90 minuti Dove stare Concentratissimo Dove stare Per non subire Gol lì Sappiamo benissimo Che l'Atletico È una grandissima squadra È una delle peggiori Che potevamo affrontare Nervosissimo ragazzi Sì Nervosissimo Mi avete fatto incazzare Mi avete fatto passare Un sabato di merda Cioè non lo so raga Non lo so Proprio la sfortuna Poi siamo stati anche Da piccoli Sfortunati Ma fino a un certo punto Perché poi la sfortuna Ce l'andiamo a creare noi Il Gervigno Ha fatto quel tiro Dalla fin Addosso a Perini Traversa rete Insomma Però ce lo meritiamo Ce lo meritiamo Perché ci siamo addormentati Perché con la partita La dovevamo gestita In maniera diversa Con un sacco di partite Le abbiamo vinte in questo avuto E adesso lo paghiamo Adesso lo paghiamo Ed è giusto Che sia così È giusto Che sia così Ora Cominciate a criticare Pesante ragazzi Perché qua si devono svegliare È già da un po' di partite Che vinciamo In maniera immeritata E ora ragazzi È il momento di svegliarsi Perché se tu sbagli Altre due partite Tu rimetti in corso Il Napoli Nonostante il campionato Soltuoso Che stai facendo E spero che vi sia entrato Nel cervello Questo Al posto di criticare Sempre Allegri Cominciamo a criticare Sì Siamo una raga Ha fatto Una bella partita Ha fatto i gol Tutto quello Raga però Bisogna criticare Tutti Adesso Tutti Tutti Bisogna criticare Perché la prestazione Non si giudica Da un gol È normale Per aver avuto Quell'uomo più rappresentativo Della Juventus In questo momento Non perché È stata colpa sua Raga È in generale È in generale raga Senza difesa titolare Balliamo In difesa Balliamo Ragazzi Un dato di fatto A Bergamo È successo È successo Anche stasera Veramente Usciamo fuori Dalla partita In una maniera assurda Abbiamo sempre Questo maledettissimo Vizio Vedete Quanto ce lo togliamo Altrimenti Rimarremo incompiuti Raga Io vi faccio una buona serata Veramente Non ce la faccio proprio A parlare della partita Perché abbiamo fatto Un primo tempo Sontuoso Il secondo tempo Raga Cioè quando abbiamo Subito il gol Avevo una brutta sensazione Ed è accaduto Ragazzi Ce lo meritiamo Raga Anche se il vantaggio È ancora Abbastanza importante Raga Bisogna stare attenti Massima concentrazione Ogni partita Buonasera ragazzi Al vostro Tomic10 Una buona serata Ciao